Buongiorno a tutti quanti, per me è un piacere essere qui quest'oggi e di vedere un pubblico così nutrito. Innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco, il vice sindaco, l'assessore Claudio Spagnardi e anche il dottor Francesco Di Mario, sovrintendente della sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio che oggi ci dà onore con la sua presenza. Innanzitutto come vedete il titolo dell'intervento è nuove indagini tra fondi e idri quindi illustreremo quelle che sono le recenti indagini archeologiche sul territorio. Quindi ci sarà un mio intervento come direttore, intervento del professor Massimiliano Di Fazio e di Edoardo Vanni che illustreranno le recenti indagini da Pianara e poi da Idri. Ringrazio anche e soprattutto il professore con il quale stiamo iniziando questa serie di convegni per comunicare al pubblico, alla cittadinanza, quelle che sono le indagini archeologiche sul territorio. Passo la parola al sindaco, grazie. Grazie Alfredo, anche da parte della nostra amministrazione un saluto a tante personalità così di altissima professionalità. Le ha citate già Alfredo ma credo che oggi sia un convegno di altissimo valore, di altissima valenza. Inizio con uno slogan, ma che non deve essere uno slogan, alla ricerca delle nostre origini. Non è così perché oggi con questo evento condividiamo insieme il crescere civile che da millenni, da secoli è avvenuto nelle nostre comunità e se oggi siamo una comunità civile che sa includere, che sa accogliere, lo dobbiamo molto probabilmente a un percorso storico che per fortuna è avvenuto anche nella nostra comunità. Quindi un grande grazie ai relatori, nei giorni scorsi un po' con tutti ci siamo incontrati per condividere non l'evento di oggi ma per condividere quello che nella nostra comunità succede continuamente. Anche le ultime scoperte credo che siano un valore aggiunto a tutto quello che in questo tempo è avvenuto. Grazie, grazie a tutti. Appena entrato ho avuto una scenografia bellissima. Francesco questo è merito anche tuo perché nel tempo tu hai fatto la storia anche dal punto di vista umano di questa comunità, di questa città. Quindi un grazie particolare al tuo nuovo incarico. Sappiamo che stai lavorando in maniera continua perché sei una persona che oltre alla propria professionalità mette sempre anche tanta umanità e lo stiamo vedendo. Grazie. Un grazie particolare, perdonatemi la gaffa, lo devo al mio assessore perché grazie alla sua passione, al suo amore per l'archeologia da tempo abbiamo fatto sì che oggi sia una giornata speciale come anche al nostro dirigente all'urbanistica perché avalla sempre il pensiero della nostra amministrazione e quindi un grazie anche a te perché sappiamo della tua professionalità. Grazie. Sì, grazie. Io faccio un intervento insieme all'assessore al patrimonio perché da anni, almeno da un paio di anni, lavoriamo insieme sinergicamente come cultura e come patrimonio archeologico di questa città con l'obiettivo di farla crescere insieme e questo per noi è un'opportunità. Io da quando ho conosciuto il direttore Moraci abbiamo avviato tutta una serie di percorsi condivisi e credo che sia stato in questo momento per la nostra città un valore aggiunto. Quindi è per questo che ringrazio il direttore perché insieme ha costruito e stiamo costruendo tutta una serie di iniziative volte appunto a valorizzare il nostro patrimonio e ad arricchire la nostra cultura personale. Oggi è un evento credo il primo perché possiamo dire il primo di una serie di convegni, anzi il secondo perché uno ce l'abbiamo fatto, il secondo di una serie di convegni che dobbiamo organizzare per far conoscere il nostro patrimonio archeologico ai cittadini e questo credo che sia un'opportunità per tutti quanti noi. Quindi ringrazio il professor Di Fazio che ci siamo già incontrati più di qualche volta in comune per programmare, per cercare di trovare anche soluzioni condivise che possano far continuare questo percorso perché fondamentalmente questo percorso deve continuare e per continuare ha bisogno anche di risorse. da parte nostra ci stiamo cercando di mettere tutto l'impegno possibile e perché già ci siamo un po' nella parte di bilancio. È appena arrivato anche il direttore del parco Giorgio De Marchis che salutiamo e qui già si stanno scambiando dei problemi da risolvere. Quindi ecco quello che ci ha indicato il sindaco quando ci ha assegnato le deleghe ci ha detto appunto di lavorare in sinergia tra cultura e valorizzazione del patrimonio perché questa città ha tanto da scoprire, ha tanto ancora da far vedere e tanto ancora da mettere a disposizione dei nostri cittadini. Quindi grazie, vi invito tutti domani mattina, chi vuole naturalmente fare questa bella passeggiata alle 10.30 è previsto la partenza per Pianara, solo ora troveremo Massimiliano e gli altri ad aspettarci e farci capire quello che c'è e quindi ecco è un'opportunità per tutti quanti noi e per chi vuole l'appuntamento domani mattina alle 10.30. Grazie e lascio la parola a Claudio che mi spinge quotidianamente a trovare e a fare cose importanti per la città, questo è un merito e stiamo lavorando anche su qualche cosa, su qualche ritorno nella nostra città di qualche opera che non è più presente e siamo diciamo a buon punto in un contesto esatto, un contesto sinergico con il direttore che ci permetterà speriamo e con la sovrintendenza di ottenere il ritorno di qualche cosa che può essere interessante per tutti. Ringrazio e mi congratulo personalmente con il sovrintendente da poco tempo, il dottor Di Mario che al di là del ruolo che ha in questo momento ci ha sempre dato una mano nella nostra città, quindi grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie, buongiorno e grazie di essere intervenuti, ringrazio Alfredo di aver organizzato questo convegno in sintonia col comune ma soprattutto l'università e il professor Di Fazio e gli altri professori di aver scelto questo territorio per le intancini è importante che poi le università trovino anche il modo di intacare sui nostri territori e questo come ci ha detto l'assessore carnevale noi come amministrazione stiamo dando, daremo tutto il supporto che ci è possibile perché sono occasioni preziose. Colgo l'occasione per salutare ufficialmente il nuovo sovrintendente che è profondo conoscitore di questo territorio, sono anni che collaboriamo, che viene puntualmente su questo territorio e che conosce bene le problematiche. In questi anni abbiamo fatto diverse cose insieme ma purtroppo le cose non riescono ad essere veloci come ci piacerebbe che fossero, basti pensare che per far rientrare il busto che poi tu hai attribuito a Carlo, quello che veniva dall'Ancermania, dal momento che abbiamo fatto l'incontro ufficiale in ambasciata a Roma ci abbiamo messo tre anni di solleciti, telefonate, impegno della sovrintendenza finché siamo riusciti a farlo rientrare a fondo. Altre procedure come anticipato il vice sindaco insieme al nuovo sovrintendente e al dottor Moraci abbiamo in piedi anche per altre opere dove ci abbiamo fatto degli incontri anche col ministero e con la direzione regionale dei musei del Lazio proprio per cercare una sintonia per far sì che cose che in passato dovevano rimanere in questo territorio invece hanno avuto una strada diversa possano tornare su questo territorio come in giusto che è, come non sarebbe dovuto avvenire l'incontrario. Francesco è una persona insomma è stato in grado anche di portare finanziamenti sul nostro territorio, lo splendido lavoro fatto alla tomba di Cavanauta, ne è stato un esempio di quanto poi successe l'emergenza dopo due ore in dottor Di Mario la sovrintendenza, la sovrintendente di Cine dell'epoca erano sul posto insieme a me a sindaco Temeo per trovare e poi dagli a pochi giorni iniziarono i lavori. C'è ancora Francesco una piccola parte da fare quindi so che in questo periodo sicuramente chiuderemo anche questo idea. Passo la parola al dottor De Marches. Grazie, io ringrazio Claudio, adesso non voglio fare uno spot gratuito per lui anche perché non ne ha assolutamente bisogno, però devo dire che in questi ultimi tre anni quando cominciamo proprio insieme con il dottor Di Mario, ancora uno sovrintendente sulla piantica, sull'intervento a Sant'Andrea di fatto, Claudio è stato sempre protagonista di una missione importante, ovvero quello di costruire, di mettere in rete diversi soggetti con un obiettivo finalizzato sostanzialmente a accendere i riflettori su una realtà archeologica decisamente importante come è quella che insiste sul territorio. E diciamo che dopo tre anni, anche in un tempo relativamente breve ovviamente, questo sforzo è stato premiato e soprattutto vi è stata la visione che si stava andando nella direzione giusta perché una serie di lavori, di indagini, di coordinamento ed anche l'attenzione da parte del Ministero con il riconoscimento dell'appia antica, con il progetto per il riconoscimento dell'appia antica come patrimonio dell'UNESCO, rappresentano indubbiamente nel quale questa zona del territorio è uno degli elementi centrali per il tratto di appia sia per come è conservato che sia per la valenza che ha, indubbiamente rappresenta un elemento centrale. A fianco a questo va sottolineato il grandissimo lavoro che istituzioni importanti come le università, tutte toscane tra le altre cose, no, adesso l'ultima di Parma no, giusto, di Parma no. Noi abbiamo collaborato l'anno scorso, un progetto molto interessante a Campello che ha portato a luce, poi lo diranno sicuramente meglio di me, condizionamente con molte più competenze anche in sediamenti tardi o medievali, con i ricercatori dell'Università di Pisa e dell'Università di Siena. Quest'anno abbiamo già parlato con il professor Di Fazio che conosce soltanto per telefono, immagino adesso fisicamente ci conosciamo anche in questa sede e abbiamo già assicurato, come ci ha detto nel passato, il sostegno del parco dal punto di vista logistico, tecnico e amministrativo, quindi pieno e totale e in base alle nostre disponibilità anche ovviamente finanziare la ricerca e la cultura è uno degli obiettivi fondamentali. Chiudo questo breve intervento ricollegando il tutto con la valenza dell'area naturale protetta, ovvero aver scelto nel 1996 di proteggere questa parte di territorio significa aver tutelato non soltanto la natura che sicuramente è di per sé importante ma avere scelto in qualche modo di tutelare anche il patrimonio architettonico e il patrimonio archeologico che insiste in gran parte all'interno dell'area protetta e su questo penso che debba diventare, è sicuramente un punto d'eccellenza ed è un punto che da valorizzare sempre ancora di più attraverso questa joint venture importante perché vedere ente comune di fondi, anche il comune di Idric è stato in questo progetto, università, sovraintendenza e aree protette rappresenta veramente un elemento centrale soprattutto che sicuramente poche parti d'Italia possono avere visto anche l'enorme patrimonio a disposizione. Io vi ringrazio per l'invito e vi auguro buon lavoro. Grazie. Allora cominciamo con il primo intervento. Perfetto. Allora il titolo del primo intervento è Archeologia pubblica, il museo del territorio e delle persone. Allora andiamo a vedere che cos'è l'archeologia pubblica. Per archeologia pubblica si intende, si occupa praticamente della gestione del patrimonio archeologico per favorire lo sviluppo sociale, economico, politico, culturale dell'intera comunità. Quindi per quanto riguarda il museo è fondamentale appunto la comunicazione con il pubblico. La comunicazione avviene sia attraverso l'allestimento museale permanente ma anche attraverso l'organizzazione di mostre temporanee e convegni. Quindi noi quest'oggi stiamo facendo dell'archeologia pubblica perché trasmettiamo quelle che sono le indagini archeologiche dal territorio alla cittadinanza. Per quanto riguarda l'allestimento museale permanente, l'amministrazione ha recentemente ottenuto un contributo di 8 mila euro dalla regione Lazio che sarà utilizzato per il restauro di alcune opere d'arte. In particolare la cosiddetta testa di Livia che c'è stata recentemente donata dall'avvocato Martellucci ma anche per il restauro di questo busto che si trova al piano superiore che finalmente sarà ricongiunto con la cosiddetta testa di Alessandro Magno che invece c'è stata restituita dalla Germania. Vorrei cogliere l'occasione anche per ringraziare i ragazzi e le ragazze del servizio civile, in particolare Domenico Capuano e Martina Pannozzo che stanno realizzando dei pannelli didattici per il museo. Sono entrambi degli ottimi illustratori, disegnatori e questi sono alcune delle loro opere d'arte che verranno utilizzate appunto per un pannello didattico dell'età preistorica e anche per una guida per i bambini. Sono tutte illustrazioni realizzate da loro. Per i prossimi eventi quest'estate stiamo organizzando una mostra dal titolo Metamorfosi. Sono stati selezionati 20 artisti di fama internazionale, di fama mondiale nel campo della street art che in qualche modo reinterpreteranno in chiave moderna e contemporanea quelle che sono i miti tramandati nelle Metamorfosi di Ovidio. Quindi abbiamo un dialogo tra la classicità e l'arte contemporanea. Un altro evento importante che stiamo organizzando per l'inizio del 2014 è questa mostra dedicata ad agosto, sì, 2024, sono rimasto indietro perché 2024 sarebbe il bimillenario più 10 dalla morte di Augusto. Praticamente in occasione di questa mostra esporremo sia la testa di Livia restaurata ma anche questo busto di Augusto che è stato ritrovato a fondi ma che si trova conservato attualmente presso il museo archeologico di Formia. Quindi in occasione di questa mostra il busto finalmente farà ritorno a casa. Livia, come sapete tutti, è la prima imperatrice di Roma e moglie di Augusto e molto probabilmente aveva origine fondane. E' qua a fondi, l'è stato ritrovato, a Sant'Anastasia, a Sant'Anastasia, è trabocchetto. Ecco qua, passiamo alla prossima slide. Quindi tornando al discorso dell'archeologia pubblica, l'archeologo andrebbe considerato come una sorta di mediatore tra passato e società contemporanea. La domanda è questa. Come può l'archeologia contribuire alla progettazione del futuro delle nostre città? Quindi voi sapete che il 10 gennaio l'amministrazione ha firmato il protocollo d'intesa per la candidatura della Viappia a patrimonio mondiale Unesco. Quindi nell'ambito della futura valorizzazione della regina Viarium sono stati selezionati quattro siti oggetto di indagini archeologiche. Questi siti sono un tratto extraurbano della Viappia rinvenuto in località Ponte Selce, poi abbiamo l'anfiteatro di Fondi, l'area dell'ex chiesa di Sant'Antonio Abbate e le cosiddette terme romane di San Rocco. Ma andiamo progressivamente. Allora, nel corso di lavori stradali in località Ponte Selce è stato rinvenuto un tratto della Viappia, un tratto extraurbano. In questo caso l'amministrazione in accordo con la sovrintendenza ha deciso di valorizzare il sito lasciando il basolato visibile e installando in futuro dei pannelli didattici e divulgativi. Il secondo sito è l'anfiteatro di Fondi. Ovviamente anche l'anfiteatro era collegato alla Viappia per mezzo di un diverticolo che probabilmente è ricalcato dall'attuale Via dei Latini. Il primo studioso ad ipotizzare la presenza dell'anfiteatro in Via Mola della Corte è stato il professor Giovanni Pesiri, che è qui presente e ringrazio. In seguito scavi archeologici condotti prima dalla dottoressa Daniela Quadrino e poi dal sottoscritto sotto la supervisione del dottor Francesco Di Mario hanno portato alla luce l'anello esterno del monumento. Per quanto riguarda la valorizzazione del sito, in un precedente convegno avevo ipotizzato di realizzare un parco archeologico naturale sul modello di Milano dove le strutture architettoniche che si conservano solo a livello delle fondazioni sono integrate e riprodotte con delle essenze arboree. Qui abbiamo un esempio ricostruttivo. Il terzo sito coincide con l'area dell'ex chiesa di Sant'Antonio Abbate, ci troviamo quindi lungo corso a Pio Claudio all'incrocio con Via Alessandro Manzoni. Si parla di area dell'ex chiesa perché ovviamente l'edificio di culto è andato distrutto dai bombardamenti. Quest'area è attualmente oggetto di un progetto di riqualificazione urbana e presto sarà consegnata al godimento pubblico. Nel corso degli scavi archeologici condotti dal sottoscritto è venuta alla luce una porzione superstite della pavimentazione originaria realizzata con queste piastrelle ceramiche in parte magliolicate dadabili al XV secolo e le cosiddette rigiole, mentre ad una quota inferiore è emerso un pavimento a mosaico con tessere bianche e nere. Questo pavimento in realtà era già stato rinvenuto nel corso di precedenti scavi archeologici condotti negli anni 50 da Domenico Faccenna. Anche in questo caso l'amministrazione in accordo con la sovrintendenza ha deciso di valorizzare il sito, di restaurare la pavimentazione e in futuro di installare dei pannelli didattici e informativi. Quarto e ultimo sito che potrebbe essere riqualificato e valorizzato sono le cosiddette terme romane di San Rocco. In questo caso si potrebbe pensare di realizzare una nuova illuminazione, di progettare una passerella che renda direttamente fruibile l'aria ma anche di creare una stanza della multisensorialità. Che cos'è la stanza della multisensorialità? È un ambiente inclusivo che diventerebbe il punto di partenza per poi pianificare la visita al centro storico. All'interno di questa stanza, di questo ambiente, grazie alle nuove tecnologie digitali, penso ad esempio ad audio video, ricostruzioni grafiche 3D, si potrà illustrare direttamente al visitatore, al turista, al cittadino quella che è la storia di fondi, dalle epoche preromane fino ai nostri giorni, una sorta di guida introduttiva per poi pianificare la visita al centro storico. Quindi arrivo alle conclusioni. L'avarolizzazione dei beni archeologici farebbe emergere un turismo culturale generando un'economia sana e pulita, con un impatto diretto e indiretto anche su altri settori della società. Penso alle strutture ricettive, alla ristorazione, al piccolo commercio, all'artigianato. Cito solo alcuni dati Istat. In Italia il patrimonio culturale genera un fatturato per 90 miliardi di euro, pari al 6% dell'economia nazionale. Il settore dei beni culturali è quello che ha il maggior effetto moltiplicatore, che vuol dire che se noi investiamo un euro in cultura se ne attivano 1.8 in altri settori. Quindi in conclusione il patrimonio archeologico ma anche ovviamente il patrimonio ambientale andrebbe considerato come una nuova risorsa, un nuovo asse strategico di sviluppo per i territori. Perché? Perché favorisce la crescita economica e occupazionale, migliora la qualità della vita dei cittadini e rafforza l'identità culturale del territorio. Io vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola al professor Massimiliano Di Fazio. Per andare avanti posso essere autonomo? Per andare avanti sono autonomo? Posso... Penso che puoi utilizzare anche il... Questo? Sì, fare lì. Benissimo. Dunque io vi ringrazio tantissimo, ringrazio il pubblico, ringrazio tutte le autorità, ringrazio tutti coloro che hanno permesso oggi di essere noi qui come equip di Pavia, di Siena, di Siena stranieri eccetera, di Pisa, siamo un pochino un pool abbastanza composito che da un po' di anni sta lavorando sul territorio e in particolare a ottobre abbiamo cercato di fare questa campagna di ricognizione di documentazione che è più o meno l'oggetto della chiacchierata che noi faremo oggi. Ora, rimandando poi un discorso anche di ringraziamenti e di prospettive future al termine di questa chiacchierata, io vorrei subito entrare nel vivo. Pochi mesi fa in questo stesso posto avevamo già parlato di Pianare, dell'epoca preromana di Fondi, quindi io cerco di evitare di tornare su temi che magari molti hanno già sentito esattamente in questo posto, però per cercare di spiegare meglio che cosa abbiamo fatto, qual è anche l'importanza di questa località di cui andremo a parlare oggi, dovete lasciarmi due minuti di parte un pochino noiosa sulla zona del Lazio Meridionale, sulla zona del Lazio Meridionale, vi rubo 5-10 minuti non di più e poi passo la parola alla collega Elena Marazzi che con grande competenza di far capire meglio di cosa stiamo parlando. Ad ogni modo, la zona del Lazio Meridionale è una zona molto particolare, stiamo parlando ovviamente della fase che precede la conquista di Roma, quindi prima della seconda metà del quarto secolo avanti Cristo. Se vi faccio vedere la prossima, era una costruzione alla quale stavo riflettendo da un po' di tempo, vedete quell'arco diciamo che proprio evita tutto il comprensorio fondano. Se noi cominciamo a guardare da Circei fino a Minturne, le presenze di epoca romana, pre-romana, sono tante, ricche e anche importanti. Dal Circeo con le mura spettacolari e con anche degli scoperte molto interessanti nel corso degli anni. Terracina negli ultimi anni, ci sono degli scavi nella zona del santuario cosiddetto di Giove Anxur che stanno promettendo novità interessanti, ancora non pubblicate quindi non sappiamo ancora bene ma qualcosa di interessante starà avvenendo. Priverno e Sezze, per non parlare della zona Ciociara, Arpino, Aquino con delle tombe di quinto secolo avanti Cristo, forse di Volci, chi lo sa, per non parlare poi di Cassino e di Minturno con la santuario della Dea Marica, un santuario antichissimo immerso nelle paludi delle foci del Garigliano, una cosa molto molto interessante. Forse addirittura queste tombe da Gaeta, quindi ci avviciniamo ancora di più al territorio fondano, sono tombe probabilmente di quinto secolo avanti Cristo, sono una scoperta di qualche mese fa, una cosa molto molto recente. In tutto questo panorama il buco nero era a fondi, che era una cosa abbastanza anomala se ci pensate perché è un pochino strano che siamo circondati da preromano e c'era questo vuoto, questo silenzio diciamo locale. Adesso ci torniamo. Chi erano queste popolazioni che vivevano in zona? Veramente due flash. Degli aurunci noi sappiamo qualcosa, ecco vi dicevo, il santuario della Dea Marica, le foci del Garigliano, nelle paludi, che è anche una cosa strana per un santuario, però era un modo forse per esorcizzare la natura antica o per qualcosa del genere, un posto un po' strano, un po' inquietante, però questi aurunci, dimmi in turno, che non solo producevano votivi, fittili, un pochino non particolarmente belli, eleganti, però erano una comunità che poteva permettersi di commissionare agli artigiani campani di Capua, probabilmente, o addirittura di Cuma, antifisse di questo genere, quindi avevano una, quelle che vedete a sinistra insomma, avevano comunque una dimensione politica e forse anche economica non trascurabile. Poi il resto noi sappiamo poco, sappiamo che a un certo punto i romani li distruggono e li ricacciano in una zona di sopravvivenza della campagna settentrionale, sappiamo qualcosina della scrittura per esempio, sappiamo che, questa è una ciotola che sarà trovata proprio nella zona del Garigliano, siamo nel V secolo a.C., ci sono due iscrizioni, una è praticamente un latino arcaico, nei pari med, esom comeo is socio, is trifos aud de om, talmente studiata che è la sua memoria ormai, esom, sum, è un latino arcaico, e l'altra iscrizione più breve, di tipo Osco, che ci fa capire che è una comunità, una cultura, che guardava più alla Campania che al Lazio. Ne sappiamo poco di questi aurunci. L'altra cosa che sappiamo dell'Azio meridionale è che a un certo punto, probabilmente tra VI e V secolo a.C., la situazione cambia in maniera molto consistente, perché? V secolo è un secolo confusissimo in tutta Italia, un secolo in cui c'è di tutto, si muovono, si spostano popolazioni, gruppi, per tutta una serie di motivi, probabilmente anche per una serie di variazioni climatiche, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Sta di fatto che a un certo punto, da un centro Italia difficile da definire, quella zona lì più o meno, calano gruppi che portano una cultura diversa da quella urbana che troviamo tradizionalmente nella zona tirrenica. Sono i volsci, quelli che almeno i romani chiamano volsci, e che arrivano nella zona del Lazio meridionale utilizzando le valli fluviali del Sacco e dell'Iri, e si tuffano, diciamo, verso la zona del Lazio meridionale, da cui fanno guerra ai romani, sarà un bel problema. Noi sappiamo ad esempio che Anxur, cioè Terracina, nella lingua volska veniva chiamata Anxur, quindi questo termine di Anxur risale alla fase volska. Se noi andiamo avanti molto rapidamente, abbiamo tutta una serie, possiamo anche andare avanti, vi risparmio le fonti di Livio, ringraziatemi, ma volevo raccontarvi due secondi chi erano questi volsci. Dov'è che li vediamo un po' più chiaramente? A Satricum, a Borgole Ferriere, vicino a Latina. Lì degli scavi olandesi già degli anni 70 hanno trovato una necropoli di 200 tombe. La cosa interessante è che questa necropoli non era collocata, come di solito, nelle città etrusche, laziali, fuori dall'insediamento. Questa era una regola antica. Qui c'è la città dei vivi, lì c'è la città dei morti, due cose separate. No, questa necropoli di 200 tombe stava dentro la città precedente, dei secoli precedenti, che è una cosa stranissima. Segnala proprio l'arrivo di una cultura che ha un modo di vedere il mondo diverso, abituata a vivere in villaggi piuttosto che in città. E ha anche una lingua e una scrittura diverse. Sto facendo fare il click. Vedete, questo è uno dei pochi documenti iscritti, anzi forse l'unico iscritto della lingua volska. Se avete presente quello che avete visto prima, è una cosa completamente diversa. Una piccola accetta di piombo, stava in una tomba, di bambino tra l'altro, una tomba infantile. E questo qui è un sistema di scrittura che richiama all'Italia centrale. È tutta un'altra cosa. È veramente una cultura completamente diversa, con delle tombe a inumazione, a fossa, 200 tombe, nell'area dell'azienda vinicola Casale del Giglio, proprio lì sotto. Una cosa anche abbastanza triste da pensare, che hanno dovuto espiantare i vigneti per scavare le tombe. È un bel conflitto di interessi. Se andiamo avanti... Ecco, un'altra cosa, molto brevemente, ci tengo a ricordarla. Perché quando si parla della fondi preromana, quando si parla della presenza di Volsci, di Aurunci, c'è sempre questo fantasma che aleggia, no? Il fantasma di Amicle. La tradizione, la leggenda della città distrutta dai serpenti, di fondazione spartana, eccetera, eccetera. Ora, io non sto a entrare nei dettagli perché ci vorrebbero due ore. Vi dico solo una cosa. Ho riassunto qui quelle che sono le fonti più antiche che ci parlano di questa tradizione. La fonte più antica, tra l'altro, è un verso del poeta Lucilio. Non era nemmeno un verso suo, cioè lo hanno riportato altri autori posteriormente, perché di Lucilio non c'è rimasto praticamente nulla. Le cose più recenti sono di primo secolo avanti Cristo, per una città che teoricamente doveva essere di sesto, settimo secolo avanti Cristo. Cioè, come se noi fossimo chiamati a essere testimoni di qualche cosa che è successo sei o sette secoli fa. Capite che c'è qualche cosa che non va e questa tradizione non può essere presa come ocolato e considerata come attendibile. Sono tutte tradizioni molto, molto tarde, probabilmente inventate. Quindi, mi dispiace dare la brutta notizia, ma probabilmente a Michele non è mai esistita questo, per dire, per andare al succo. Se andiamo avanti invece, no, ancora avanti, scusami, andiamo invece alla storia. La storia ci dice che abbiamo questa fase preromana, aurunci, volci, non sappiamo bene. Un punto fermo è la concessione da parte romana della civita sine suffragio, questa cittadinanza limitata che alcuni vedono come un premio, altri vedono come una penalizzazione per le comunità locali. 188, finalmente i fondani e i formiani acquistano il diritto pieno e poi c'è l'epoca imperiale. La cosa interessante è che però, se noi andiamo ancora avanti, abbiamo un'altra fase in cui il territorio fondano è molto importante e cioè il IV secolo a.C., prima della romanizzazione. Perché? Perché la zona di fondi diventa strategica e cruciale nello scontro epocale tra i romani e i sanniti. In quel momento i romani e i sanniti sono le due grandi potenze, insieme a Taranto che però sta più a sud, dell'Italia centro-meridionale e sono due potenze che hanno una caratteristica, un profilo culturale diametralmente opposti. Cittadini, i romani, sull'agricoltura, eccetera, eccetera, piuttosto pastorizia, guerrieri, villaggi, i sanniti. Bene, questo scontro epocale tra romani e sanniti ha come teatro privilegiato proprio la zona di fondi. Perché, se andiamo a vedere la cartina che dovrei aver messo subito dopo, è chiaro. Perché dall'Appia, fondi e il comparto del Lazio interno, Molise e Abruzzo, che era il comparto sannita, il nostro territorio era strategico per passare da Roma e andare verso il Sannio. Quindi, non a caso, alcune battaglie fondamentali della seconda guerra sannitica si giocano proprio in questa zona. E questo è decisivo per noi, perché nell'area che controlla alcuni di questi passaggi dal territorio fondano verso il comparto interno, c'è proprio il nostro protagonista di oggi. Andiamo rapidamente. L'ultima cosa che volevo dire, un altro piccolo flash. Noi siamo, stati abituati a considerare queste come le mura antiche del territorio di fondi. Quindi, Viale Marconi o alcuni lacerti, alcuni tratti che si vedevano ancora, spero si vedano ancora, sempre all'interno del centro storico, che in realtà non sono così antichi. Io rinnovo l'appello a cambiare questo bellissimo cartello che c'è qui, Mura Megalitiche, VII secolo a.C., perché Viale Marconi nel VII secolo non l'ha mai visto probabilmente. Ma, se andiamo avanti, c'è tutta una serie di considerazioni, sia strutturali, sia topografiche, che escludono che il centro storico di fondi sia così antico. Perché è un centro che è inserito in un discorso di ristrutturazione di tutto il territorio, l'appia, la centuriazione, il centro storico così regolare, tutta una riorganizzazione territoriale che è tarda, che è romana. Qui di pre-romano non c'è nulla. E allora il pre-romano dove andiamo a cercarlo? Ve lo racconta Elena adesso. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sarò un pochino più statica del professore poiché mi trovo a dover affrontare proprio una mole di dati, quindi mi scuso se la situazione sarà un filino più pesante da seguire, ma tanto è dovendo trattare i dati principalmente. Come introdotto dal professore nel corso del mese di ottobre del 2022, grazie al sostegno della soprintendenza, l'insegnamento di archeologia dell'Italia pre-romana dell'Università di Pavia, diretta dal professor Massimiliano Di Fazio, ha iniziato la prima campagna di indagine documentali in località Pianara, in collaborazione con il laboratorio di archeologia dei paesaggi dell'Università di Siena, diretta dal professor Franco Cambi e assieme all'associazione archeologia diffusa. Le indagini hanno coinvolto ricercatori, dottorandi e studenti di entrambiglienti, con l'intento di avviare una forma di collaborazione tra l'università che lavorano sul territorio e soprattutto le istituzioni locali, nell'ottica di realizzare una rete di ricerca che abbia come fulcro di indagine il Lazio Meridionale Costiero e la regione dei Monti Aurunci. Nello sviluppo di questa visione ed insieme la giornata d'oggi è fondamentale, in quanto, nell'ottica di una progettualità e di una continuità significativa, è indispensabile il coinvolgimento di figure specializzate che diano fondamento scientifico ai dati della ricerca, ma è altrettanto indispensabile il sostegno degli enti locali e il coinvolgimento della cittadinanza, in quanto sono l'unico sistema per far sì che la percezione condivisa del patrimonio culturale locale come un valore porti alla pianificazione di sistemi di tutela e valorizzazione. La collaborazione in atto, quindi, si è basata, almeno in questa prima fase, sul coinvolgimento di due università che hanno una formazione un pochino diversa dal punto di vista archeologico, per cui si sono condivisi ideologie, idee e ideologie, metodi e anche strumentazioni archeologiche all'avanguardia o perlomeno perfettamente a giorno con quanto richiesto oggi dall'ICA, l'Istituto Centrale per l'Archeologia, per una documentazione che venga riconosciuta valida e scientifica. Passando al sito, l'altura di Pianara è uno dei rilievi che circondano la Piana di Fondi e si trova circa a due chilometri e mezzo nord-est dall'attuale centro storico. L'altura è composta da tre distinti pianori, per quanto comunicanti, di cui il maggiore è alto, 323 metri su livello del mare, i successivi un filino più bassi, 310 e 304. Nel corso del principio del 2000, primi decenni, furono effettuate alcune indagini preliminari da parte di due differenti equip di ricerca, mediante ricognizioni sul campo e lettura della fotografia aerea. Queste portarono a letture significativamente divergenti sia delle emergenze che dell'effettiva ricostruzione dell'estensione del sito e conseguenzialmente della sua datazione cronologica. Per questioni di brevità, rimando chi fosse interessato alle pubblicazioni del professore del 2005 e a quelle dei Quilici del 2006. Entrando nel merito, basandoci su queste pubblicazioni, le nostre indagini si sono concentrate in primo luogo su una serie di ricognizioni sul campo che hanno coinvolto sia l'altura maggiore che i due pianori limitrofi, al fine di giungere a una maggiore comprensione di quale fosse l'effettiva estensione dell'insediamento in fase preromana. L'analisi autoptica delle strutture ha permesso di individuare emergenze riconoscibili con certezza come opere in tecnica muraria poligonale, esclusivamente sui versanti sudorientale e nordorientale del pianoro maggiore di Pianara. Pertanto le indagini si sono concentrate esclusivamente in quest'area verde chiaro che vedete che è di circa sei ettari, che è quella parzialmente racchiusa dalle strutture poligonali. Strutture poligonali, benissimo, con la definizione di mura in opera poligonale si indicano quelle strutture realizzate in grandi blocchi in pietra sbozzati, accostati e sovrapposti senza l'ausilio di malte o altri tipi di leganti che si limitano nella loro giusta posizione a una squadratura dei punti di contatto. Questa semplice tecnica muraria in realtà comprende opere come i semplicissimi muretti a secco, che conosciamo tutti, ma anche opere architettonicamente privilegiate e di notevoli dimensioni che caratterizzano territori che presentano un substrato geologico calcario, in quanto questo tipo di pietra è facile da lavorare. Strutture murarie di questo tipo e di grandi dimensioni costellano la dorsale appenninica dell'Italia centrale e i censimenti condotti nelle aree sannitiche, nel Lazio Meridionale interno e costiero e in campagna settentrionale, hanno permesso di individuare un elevato numero di cinte murarie poste in intervisibilità le une con l'altre e a controllo di punti nevralgici sulle vie di comunicazione, portando a ipotizzare le esistenze in epoca preromana di una rete di centri fortificati d'altura caratterizzati da questa opera muraria. La conquista di queste regioni da parte di Roma tra il IV e il III secolo a.C. comportò l'abbandono di buona parte di questi siti d'altura, che alle volte vengono rioccupati in età medioevale, ma non la sparizione di questo stile di opera muraria, in quanto esso persistette in varie forme e varianti fino alle soglie del I secolo a.C., crescendo in imponenza visiva e anche in qualità tecnica, venendo selezionato principalmente per opere di rifaccimento ex novo, sia pubbliche che private, che vodevano essere specchio della prosperità delle comunità italiche del Lazio meridionale sotto legida romana, come una sorta di continuità della memoria di ciò che erano e che volevano ribadire nella scelta di una tecnica muraria. Nel 1957 Giuseppe Lugli fu il primo a fornire una classificazione di questa opera muraria in base alla lavorazione dei blocchi e alla precisione delle connessioni tra esse. Sono le cosiddette quattro maniere dell'opera poligonale. In realtà questa scansione in origine non voleva essere più che una descrizione stilistica con intenti di indirizzazione cronologica, senza l'intento di divenire una rigida schematizzazione. Col tempo però è diventata il più diffuso metodo di classificazione cronotipologica utilizzato per opere in muratura poligonale. Negli ultimi decenni però si sono avviate opere di revisione che tenessero principalmente conto dell'analisi della tecnica muraria in combinazione con la topografia dei siti, le caratteristiche geomorfologiche e l'adozione, dove è possibile, dei dati dello scavo stratigrafico. Ciò ha mostrato che la presenza di una tecnica considerata più antica non costituisce in sé un indicatore cronologico, ma è il risultato di scelte che erano vincolate alla realtà territoriale, la tipologia di pietra, la morfologia, la visione unitaria di un'opera o alla presenza di maestranze con specifiche specializzazioni o, come abbiamo visto prima, a mode locali che venivano reiterate nel tempo. Ulteriori analisi hanno anche portato a rivedere alcuni elementi di questa cronologia. Ad esempio, molto utile per le nostre fasi, è il fatto che la cosiddetta seconda e terza maniera di Lugli, laddove sono stati condotti i scavi stratigrafici, non viene ricondotta a prima del V o IV secolo a.C., il che modifica di gran lunga la visione che siano opere del VII. Inoltre, ad oggi, si può considerare una, non nuova scansione, ma una scansione più oggettiva il dividere semplicemente le opere murarie in due grandi gruppi. Quelle congiunti irregolari fra i blocchi, che esistono dall'età arcaica e arrivano fino al IV o III secolo a.C., e quelle invece con blocchi irregolari, che non appaiono prima del IV. Questi elementi sono fondamentali da tenere in conto perché ci permettono la lettura di quelle che sono le strutture che abbiamo individuato durante questa campagna su Pianara. Per quanto concerne infatti le evidenze di Pianara, sono state riconosciute due imponenti tratti di mura in opera poligonale. Al fine di consentire una lettura completa dell'andamento e delle strutture, si è ricorso alla ricostruzione fotogrammetrica da drone, una tecnica di rilievo indiretto, cerco di renderla il più semplice possibile, che combina la fotografia zenitale aerea assieme alla presa sul campo di punti mediante GPS e attraverso un'elaborazione, attraverso software digitali, che portano alla realizzazione di modelli tridimensionali delle realtà digitali e da questi alla possibilità di trarne dei rilievi vettoriali che siano metricamente corretti e georeferenziabili all'interno di quel sistema che è il sistema GIS, che è il sistema di georeferenziazione informatica, che viene ormai utilizzato dalle soprintendenze ma in ogni realtà che abbia necessità di puntualità topografica e di misure. La vegetazione presente sopra dei filari ha reso complessa l'individuazione di alcuni punti delle strutture, soprattutto del punto di raccordo, potete vedere lì lo iato sulla linea rossa, c'è un vuoto, del punto di raccordo tra le due porzioni di questa struttura muraria. Il tratto nord-orientale è stato documentato per un elevato fuoriterra di oltre due metri e mezzo e prosegue in direzione sud-ovest nord-est per circa 130 metri, prima di presentare un angolo in direzione nord-ovest dove continua per altri 50 metri circa. L'intero tratto è interessante il fatto che si sviluppi alla medesima quota sul livello del mare, che sono circa 280 metri, quindi non in cima alla collina ma a mezza costa del versante. Questa quota è rispettata anche dall'altro tratto, che è conservato per un alzato di tre metri, ha una lunghezza complessiva in continuità di circa 294 metri e ha direzione rettilinea sud-ovest nord-est. Questo cosa ci ha permesso di capire, per quanto i dati sembrino complessi, che si tratta, per quanto in due blocchi, di un'opera costruita con un'unica mentalità e anche se non troviamo il punto di raccordo è un'unica cinta muraria, di cui attualmente si può riconoscere la lunghezza per circa 480 metri. Grazie all'uso della fotogrammetria è stato possibile anche documentare con chiarezza lo stato di conservazione delle strutture, come nel caso dell'angolo sud-ovest del muro, parzialmente crollato, per il quale è stato evidenziato l'innesto con un'altra struttura con caratteristiche differenti, che prosegue per circa 100 metri verso il crinale della collina, ma che non fa parte di questa, è probabilmente successiva. A questa struttura si vanno ad aggiungere altri muri minori, di cui ve ne citerò esclusivamente due, sempre in opera secco, che sono stati identificati e orientati verso nord-ovest sud-est e perpendicolari al muro perimetrale. Le caratteristiche di questi riportano sempre strutture a secco in blocchi di calcare locale sbozzato di medie e piccole dimensioni e sono stati attualmente rilevati di fatto per una lunghezza di circa 6 metri ognuno. Col proseguo delle indagini ci sarà modo di comprendere non solo la direzione già comprensibile dalle fotografie aeree, ma anche lo sviluppo della struttura e il rapporto con la struttura in opera poligonale. Interessante è stata la resa della fotogrammetria sul studio del prospetto del fronte sud-orientale del muro perimetrale, che è stato documentato sia autopticamente che tramite rilievo fotogrammetrico terrestre, al fine ovviamente di creare questo preciso rilievo tridimensionale di cui potete notare l'ortofoto. La realizzazione del prospetto ha permesso un'accurata analisi della struttura dell'alzato, ciò ha confermato l'impiego di grossi blocchi di calcare locale cavati direttamente in sito, sommariamente sbozzati, in forma di parallelipipedi a profili irregolari, rincalzati con l'ausilio di schegge e strutturati a cortina semplice, vuol dire che abbiamo un'unica fila, non i muri a sacco che ne prevedono due, è un'unica fila muraria, mettiamola più sul semplice. Le caratteristiche strutturali portano quindi ad avvicinare l'opera evidente su pianara a quello che lui gli chiama seconda maniera, ma che come abbiamo visto rientra meglio comprensibilmente in quelle che sono le strutture presenti dall'età arcaica e fino almeno al IV secolo a.C. È stato possibile anche prendere veramente bene le misure di ogni blocco che avevamo sott'occhio e i blocchi di dimensioni maggiori presenti su pianara presentano le suddette misure, quindi un'altezza che è compresa tra i 70 cm e il metro, una lunghezza di circa 2,5 metri e una larghezza di 64 cm. Sono dei blocchi significativamente grandi e possono portare a porsi la domanda come l'hanno eretto, giustamente. Sebbene le dimensioni dei blocchi siano significative, recenti studi condotti all'interno del progetto olandese sul sanno meridionale, stanno analizzando in maniera approfondita, moderna e con studi statistici, rilievo fotogrammetrico, un lavoro fatto veramente bene, quello che sono gli elementi costruttivi dell'opera poligonale e quello che poteva essere la realtà di cantiere che ne ha portato alla realizzazione. Si è così capito che la realizzazione di queste strutture prevedeva una contemporaneità, uno sviluppo coevo, di terrazzamenti e alzati murari. Praticamente i muri venivano eretti continuando a costruirci un terrapieno dietro e venivano creati simultaneamente. Questo permetteva di avere le zone di cava del calcare appena a monte rispetto al punto in cui si era deciso di ereggere la cortina muraria, quindi non bisognava spostare i blocchi su lunghe distanze. Lo sviluppo del terrapieno permetteva a gruppi di lavoro che sono stati calcolati sulla dozzina e che dovevano essere molteplici e lavorare simultaneamente su tratti diversi del muro che poi venivano uniti, ognuno prendeva un blocco e poi si avvicinavano, permetteva in questo modo di cavare i blocchi poche decine di metri a monte, lasciarli scivolare sfruttando il terrapieno fino al punto di posa, usare sistemi di leve per sollevarli e poi hanno ipotizzato l'uso di argilla molto liquida per riuscire a ben posizionare, secondo il sistema di squadra che era stato individuato, i blocchi nella posizione calcolata. Ulteriore cosa che facilitava questo lavoro è la caratteristica del calcare, come abbiamo visto le opere poligonali caratterizzano zone calcare, il calcare dei Monti Aurunci è particolarmente adatto in quanto nello specifico il calcare micritico del giurassico, prodotto dell'elevazione dei Monti Aurunci tra 12 milioni, geologia non vi tiro scemi se no non finiamo più, questo tipo di calcare ha la specificità, come altri, di non pesare più di 2,5 tonnellate per metro cubo, questo comporta che i massi più grandi di Pianara non possono pesare più di circa 4 tonnellate l'uno, il che con il sistema ricostruito dagli olandesi rientra perfettamente nelle norme. In molteplici punti del prospetto murario è stato inoltre notato come la struttura in opera poligonale si è interposta al banco calcare affiorante, il quale appare difficilmente distinguibile dalla struttura muraria, ciò è imputabile nuovamente alla natura geologica del calcare dei Monti Aurunci, che per tutta la sua struttura, che ora non finirei più di parlarvi a livello geologia, è una tipologia di calcare che subisce particolarmente l'erosione da parte delle acque meteoriche, oltre che tutti i sistemi, tutto quello che subirono dopo l'emersione degli appennini tra spostamenti di faglia, di tutto e di più diventa complicato. Ciò comporta che nell'osservazione soprattutto da lontano delle strutture di origine antropica sia molto facile confondere il banco naturale con le strutture sbozzate realmente dall'uomo poiché l'erosione da parte dell'acqua provoca un'apparenza a blocchi delle stesse emersioni calcare. Ad oggi è stato quindi ricostruita una struttura composta da un grande muro perimetrale in opera peligonale che doveva fungere sia da fronte di contenimento di un terrapieno sia da cinta muraria per un insediamento, al cui interno si articolano almeno altri due setti murari in opera secco di dimensioni inferiori. Quanto emerso da questa campagna documentale induce a ritenere che la cinta muraria si limitasse solo al versante sudorientale del rilievo, maggiore di pianara, con solo un piccolo tratto sul versante nord-est. Non sono infatti stati trovati filari o blocchi poligonali in sito sugli altri versanti dell'altura né tanto o meno sui pianori limitrofi, da cui invece proviene materiale principalmente di età repubblicana. Questi dati confermano la presenza di un insediamento preromano fortificato d'altura, ma di dimensioni contenute rispetto a quanto precedentemente ipotizzato in altre sedie editoriali. L'arco cronologico di riferimento, anche indiziato dai materiali ceramici di cui però ci riserveremo di parlare a seguito degli scavi in quanto ancora in fase di studio, indica un arco compreso tra il V secolo a.C. e la seconda metà del IV attualmente. La posizione dell'insediamento di pianara e la disposizione dei tratti fortificati esclusivamente sul versante sud-est appare in linea anche con le dinamiche di mobilità dei tracciati preromani noti per il territorio fondano. Si è inerenti la viabilità montana verso l'interno, sia quella che, quest'ultima scusatemi, conduceva verso fregelle, tutto un intero gruppo, ma alla fine ci si portava lì, sia il tracciato pedemontano che è presente in Piana e che viene successivamente ricalcato dall'Appia. Inoltre, come è possibile vedere in questa immagine, che è la stessa che abbiamo scelto di copertina, dall'altura di pianara e proprio dalla zona delle mura è possibile avere il controllo visivo sull'intera Piana Fondana, nonché sulla linea di costa che da Terracina arriva a Sperlonga. Ad oggi, purtroppo, la mancanza di indicazione sull'ubicazione delle necropoli preromane in territorio fondano costituisce uno dei limiti nel tentare un'attribuzione culturale di queste strutture preromane a popolazioni che siano quelle volsche o quelle sannite, considerando l'arco cronologico individuato. Il proseguo delle indagini dovrà necessariamente tenere quindi conto di una comparazione con contesti analoghi, noti nel Sannio come nel Lazio meridionale interno, ma anche in campagna settentrionale, da cui arrivano dati molto significativi. Ciò che è certo è che nella seconda metà del IV secolo a.C. il comparto costiero del Lazio meridionale è oggetto delle mire espansionistiche santo romane, ma quanto sannite, e che probabilmente questa fortificazione deve aver avuto un ruolo di sorta all'interno delle dinamiche di scontro in atto tra le due forze. Resta quindi indesiderata, ma grazie ai contatti col Comune e la disponibilità della sovrintendenza speriamo di riuscire a farlo, l'avviare una campagna di scavo stratigrafico per saggi mirati nell'autunno di quest'anno, al fine di comprendere meglio le tecniche di realizzazione delle strutture murarie, ma ancor più di recuperare materiale ceramico ad esse coeve e da contesti attendibili in quanto non influenzati dal dilavamento che costituiscono insieme alle strutture murarie il fondamento per un'attribuzione cronologica valida ed attendibile. Vi ringrazio. Dunque, proprio per chiudere brevemente, da quello che avete visto e intuito, la documentazione che abbiamo fatto è stata una documentazione estensiva, approfondita, possiamo raccontarvi vita, morte e miracolo più o meno di ogni singolo blocco. A questo punto che cosa dobbiamo fare, qual è il prossimo passo, evidentemente per capire meglio quando è stato impiantato questa struttura, chi ci viveva, tutta una serie di cose, l'unica cosa che dobbiamo fare, l'unico prossimo passo è scavare, andare ad approfondire in alcuni due o tre punti che dovremmo decidere per approfondire, per cercare di capire meglio la storia di questo insediamento e quindi la storia del territorio pre-romano. Che cosa ci vuole per scavare? Evidentemente ci vuole un gruppo che riesca a scavare, che sappia dove mettere le mani, gli archeologi che sappiano il loro mestiere, una soprintendenza che dia un permesso, perché evidentemente senza soprintendenza non si può andare da nessuna parte, un'amministrazione comunale supportiva che dia un supporto sia tecnico che di altro genere, morale sicuramente, sarebbe impagabile, perché no anche un ente, per esempio un parco, dico così uno a caso, che potrebbe dare un supporto logistico molto prezioso e non me ne vogliono i presenti ma soprattutto una comunità che ci stia dietro e che sia interessata al proprio passato, alla propria storia perché altrimenti tutto quello che facciamo noi serve a poco. Il fatto che tutti questi componenti siano qui oggi e che mi sorridano mi fa ben sperare e quindi da questo punto di vista ringrazio veramente ancora tutti quanti e penso di dare la parola ai nostri colleghi senesi. Grazie, grazie mille. Io ringrazio veramente tutti, questa è una giornata importante, l'ha già ricordato il professor Di Fazio quindi io non mi dilungo però prenderò solo qualche minuto come sempre, il mio ruolo qui ovviamente è secondario rispetto a quelli, ai veri protagonisti insomma di queste ricerche sono i giovani allievi e studiosi e grazie a loro che tutto questo è possibile. Voglio ringraziare il comune di Fondi, voglio ringraziare il museo che ci ospita ancora una volta in questa cornice, il professor Di Fazio chiaramente senza il quale in tutto questo forse la nostra presenza qui non sarebbe stata possibile, la soprintendenza con la quale stiamo collaborando grazie al cui sostegno insomma le nostre ricerche possono esistere e possono continuare. Per ultimo ma non per ordine di importanza voglio ringraziare il parco che è stato, il comune di Campo di Mele ovviamente che sono stati i primi a credere in questo progetto perché oggi in realtà presenteremo i risultati della prima campagna di rilievo al santuario di San Cristofo Raitri però ecco questi sono i risultati di un progetto molto più vasto che si chiama appunto Monti Aurunci Project quindi è all'interno di questa di questa grande cornice territoriale che presenteremo oggi questi questi risultati. Chiaramente diciamo abbiamo iniziato, così faccio un po' la storia brevissima di questo progetto, abbiamo iniziato nel 2021 con una prima ricognizione nella piana del campo nel comune di Campo di Mele all'interno di un progetto di dottorato condotto appunto da Federico Saccoccio e poi parlerà subito dopo di me. Quindi questo è un progetto ambizioso su cui stiamo lavorando, abbiamo iniziato diciamo eravamo 4 sparuti, 5-6 persone, abbiamo fatto questa ricognizione chiaramente in sordina come dicevo con il sostegno del parco che è anche il concessionario di tutte queste queste ricerche. A Campello appunto nella piana del campo abbiamo rilevato tutta una serie di strutture principalmente medievali e moderne riferibili a un villaggio, sono delle capanne di varia natura e di varia forma. Importantissimo abbiamo cominciato anche a studiare tutto il sistema di captazione delle acque perché in questa zona calcarea dove non ci sono sorgenti la questione dell'acqua è una questione importante per le comunità che ci vivevano e che vivono tuttora quindi cisterne, pozzi, tutta una serie di strutture per la canalizzazione e la conservazione dell'acqua che è un elemento essenziale. Poi nel 2022 queste ricerche sono andate avanti, abbiamo fatto altre ricognizioni archeologiche invece a Campo di Mele nella valle proprio prospicente al paese di Campo di Mele che hanno dato anche questa volta risultati molto interessanti, abbiamo trovato diverse attestazioni archeologiche, quindi ancora una volta la ricchezza di questi luoghi salta agli occhi. E poi per ultimo abbiamo avviato questa collaborazione con l'Università di Pavia appunto per il sito di Pianare di cui hanno già parlato la dottoressa Marazzi e il professor Di Fazio e poi il santuario romano di San Cristoforo che proprio in questa visione, come dicevo, ampia, territoriale, rientra a buon diritto insomma nei nostri interessi. Quindi era essenziale rilevare nuovamente con strumentazione adeguata per inserire anche questa occorrenza archeologica all'interno del nostro grandissimo database che sta cominciando a prendere forma e che appunto, come dicevo, riguarda tutto ciò che è all'interno del parco dei Monti Aurunci. Io qui ovviamente presento anche le ultime attività che stiamo scavando appunto nel comune di Campodimele un sito, il sito di Sant'Andrea, posto insomma in un luogo chiave per il controllo diciamo del passaggio da Campodimele a poi Itri e Gaeta, Formia, Fondi eccetera in questa viabilità interna dei passi montani e recentemente grazie anche alla collaborazione del comune di Campodimele che ci ha fornito degli spazi per studiare, come vedete, i materiali. Ancora una volta i grandi protagonisti sono gli studenti che sono stati qui due settimane ospitati nella biblioteca comunale a disegnare, fotografare, va bene, e i materiali che abbiamo tirato fuori da questo insediamento di Sant'Andrea e un primo, diciamo i primissimi risultati di questo lavoro sono stati molto interessanti perché ci parlano di un insediamento alto medievale e forse anche tardo antico e sta cominciando a venire fuori. Queste sono le prime, solo le primissime fasi di occupazione che abbiamo trovato e speriamo insomma quest'anno di proseguire e di trovare altre importantissime informazioni per il territorio. Qui mi fermo e lascio la parola a Federico Saccoccio e a Marco Frontetto. Grazie a Edoardo, io parlerò ecco ora del santuario per collocarlo in uno spazio, in un tempo definiti partendo poi da quello che si è detto di Pianara, qui siamo in una fase immediatamente successiva probabilmente, tarda direbbe il professore, tarda, siamo in una fase successiva a questo insediamento di Pianara che forse di quinto, di quarto, chissà, in un momento in cui c'è quella che spesso viene definita in letteratura come romanizzazione e in cui questa zona riceve un assetto diverso e basa questo assetto su dei punti di baricentro importanti di cui probabilmente uno di questi punti, Cardine, è questo santuario che si trova in una posizione particolare perché il santuario di San Cristoforo a Itri è posizionato su un incrocio che voi potete vedere lì, il puntatore dovrebbe essere questo e qui, questo incrocio tra un percorso tra la via Appia, la via Bira principale che attraversa i Monti Aurunci nel passo dei Monti Aurunci tra Formia e Fondi, passando per Itri e un percorso che invece conduceva verso l'interno tagliando i Monti Aurunci da nord a sud e che ricalca in parte il tragitto dell'attuale SR82 della Valle dell'Iri per intenderci, quella strada di età borbonica che non a caso conduce poi a Ceprano che è l'antica Freggelle che non è un centro secondario per nulla. In parte questa viabilità antica poteva essere un po' diversa da come la intendiamo noi perché a questa viabilità principale si collegavano tutti dei percorsi secondari che potevano variare poi nel tempo in base appunto a un pattern di occupazione a dei punti di baicentro che potevamo cambiare. Quindi possiamo dire che il nostro santuario di San Cristoforo la prima cosa che salta all'occhio è il legame forte con la viabilità e con questa sua funzione di punto di snodo. Le famiglie finora attestate epigraficamente nel santuario e non solo sembrerebbero provenire proprio dall'interno, in particolar modo dalla Valle dell'Iri e recentissimamente è stato questo legame è stato più volte segnalato da Carlo Molle che ha studiato le epigrafi del santuario. Parliamo ad esempio degli Alli che ha testati un'iscrizione rinvenuta nel 2011 in riutilizzo nelle strutture postantiche, parliamo di questa scalinata in riutilizzo, degli Alli che sono e una famiglia appunto gravitante nell'area di Fabbrateria Nova e nella Valle dell'Iri. Più recente l'attestazione di un sextanus che è questa qui, che appunto i sextani, una famiglia molto conosciuta, ben conosciuta di fregelle legati poi a un commercio particolare, quello della lana e che appunto ci dà ancora una volta questi indizi di legami con attività che collegano questo compartimento costiero del Lazio all'interno. Ancora gli Umidi, Umidi che a Itri sono attestati non solo, sono attestati nei dintorni del santuario, hanno delle tombe, hanno delle proprietà in quella zona, gli Allidi ancora, gli Umidi sono molto presenti a Cassino, per intenderci. E poi per ultimo ancora recentissima identificazione di molle di un curator del santuario con un cognomen, Eculaneus Aeclanum, che appunto richiama alla città di Eclanum, vicino Avellino. Stiamo parlando di contatti tra zone, compartimenti, appenninici, sanniti, interni, che in un certo qual modo trovano questo sbocco sulla costa, in questo santuario. Quale fosse poi questo ruolo del santuario, noi ancora non possiamo saperlo con certezza. I santuari antichi sono punti di aggregazione poliedrici nello spazio, nel paesaggio, non sono un luogo di culto e basta, sono luoghi dove avvengono tutta una serie di attività legati a un pagus, a un vigus, nelle vicinanze, e a servizio di un ager che dipende amministrativamente da un municipio più grande. Qui siamo in un contesto rurale, è un santuario che si trova lontano dalle città, a cui potrebbe far riferimento. Non siamo fuori dalle mura di una città, non siamo in una città, siamo molto lontani da Formia, siamo a dieci chilometri quasi, siamo ancora più lontani da fondi. Quindi è un santuario che ha questa funzione di gestione di diverse pratiche economiche, sociali, politiche, che avvengono in questo spazio rurale. Andando avanti, io non voglio ricordare tutti i materiali fino ai rinvenuti del santuario, per i quali sono stati in passato prodotti molti, resoconti in sedi diverse. Basti ricordare per ora che dal santuario provengono numerosi reperti, soprattutto metallici, monete, di periodi differenti, con un cospicuo quantitativo di monete di quarto e terzo secolo, molto interessanti per capire questo fenomeno di mobilità, questo fenomeno di circolazione di persone che tra il quarto e il terzo secolo e fino al primo avanti si muovevano sfruttando questa viabilità che probabilmente è una viabilità interna, montana, collegata a qualcosa, a un'attività in particolare che probabilmente aveva il suo centro nella transumanza, che è un fenomeno invisibile, spesso, archeologicamente, che però è un fenomeno importante delle società antiche, società antiche contraddistinte da questa mobilità accentuata, da questo quasi nomadismo, diciamo, di gruppi che si muovono con i loro animali e attraversano regioni montuose alla ricerca di pascoli e di mercati differenti. Appunto, quindi questa grande attività nel quarto secolo fino al primo secolo avanti Cristo, non parleremo di tutti i materiali, da sottolineare poi però, mi preme, che una parte di questo lotto di monete di quarto secolo poi è oggetto di una revisione recente da parte di un allievo dell'Università di Pavia e speriamo di vedere presto i risultati di questo lavoro. Tra i materiali riferibili alle pratiche cultuali possiamo annoverare i votivi fittili che sono stati rinvenuti, qui c'è un frammento di bovino o di animale comunque di quadrupere, ungulato e qui c'è un confronto con una statuetta rinvenuta non troppo lontano, a Campo di Mele, a Stipe di Valle Fundana, sotto il Monte Appiolo, pubblicato da Cassieri. Appunto, stiamo parlando di questi votivi fittili che venivano dedicati presso delle stipi o presso delle edes o dei santuari per auspicarsi il buon volere del Dio. Poi si trovano anche elementi in piombo come queste conchiglie cardiali in piombo che sono molto interessanti perché potrebbero riferirsi in realtà a qualcosa che ha a che fare con dei ponderali, cioè con dei pesi, dei riferimenti di pesi, perché dentro questo santuario avvenivano anche pratiche economiche interessanti. Quindi sono tutti elementi che vanno approfonditi, provengono da qui anche dei pesi in piombo da 38 grammi e mezzo, quindi molto regolari, precisi, attestano questo tipo di pratiche, tutti materiali che speriamo di vedere affrontati con maggiore chiarezza quanto prima in una revisione generale della documentazione in cui poi mi preme, poi particolarmente a me, segnalare questa presenza di fasi post-antiche, tardo-antiche e alto-medievali che sono un po' evanescenti nel santuario. Al momento non ci sono strutture attestate, ci sono dei riutilizzi, però non si capisce cosa ci fosse. Probabilmente c'era un luogo di culto cristiano, una chiesa paleocristiana, chissà. Sono difficili da individuate, sono quasi invisibili. Si tende poi infatti, anche per una questione di visibilità, a prediligere fasi monumentali romane di questi contesti, eppure sarebbe interessante accedere a queste fasi del santuario alla luce poi delle indagini che per questo periodo si stanno svolgendo non lontano. Il nostro sito di Sant'Andrea è abbastanza vicino e quasi si osservano questi santuari, si trova sullo stesso asse di percorrenza. Quindi parliamo di materiali anche ceramici che per questa fase sono scarsi e che questo sito potrebbe fornire. Tornando poi alla questione dei culti, Marisa Espagnoli si è ipotizzato che il santuario fosse da collegare al culto di Ercole, Dio italico, Ercole italico, Dio degli armenti, della pastorizia, della transumanza. Ad oggi però sappiamo provenire dal santuario una sola dedica, un donario alla Dea Fortuna, che è questo qui che è quasi illegibile, non riesco a farlo, comunque è quello a lato, su una base appunto a incalcare. Anche qui la dedica alla Dea Fortuna non è in conflitto con un'attribuzione del santuario a Ercole, però Molle ha fatto notare come la presenza di questa Dea in contesti rurali periferici sia una caratteristica tipica in altri contesti della Valle dell'Iri, ad esempio a Casinum. Quindi siamo di nuovo in una situazione in cui si ripropongono sistemi simili dell'interno. Ma a prescindere dai culti presenti nel santuario, per cui si può dire ancora poco, sarebbero diversi gli indizi che potrebbero ricondurci sempre alla sfera della pastorizia e della transumanza. Prima o tra tutte il collegamento ancora una volta quella viabilità. A ben vedersi, noi, l'incrocio di questo santuario non è un trivio, non è solo questo percorso che incontra l'Appia, ma ce n'è un altro, che in realtà è stato individuato da Quilici nel 2004. Questo quadrivio della percorrenza nord-sud tra Valle e Vidi, che non si ferma a Itri, ma attraversa tutta la lunghezza dei Monti Aurunci, fino alla propaggine meridionale di questi, dove raggiungono il mare, tra Sperlong e Gaeta. E anche questi sono Monti Aurunci, anche se ci risulta difficile pensarlo, perché sono paesaggi in parte diversi. Noi abbiamo la parte costiera, che ha una composizione geologica leggermente differente, con affinamenti diversi, un'orografia meno accentuata, quasi collinare, ma soprattutto sistemi di sfruttamento attualmente diversi. Si passa dalla media montagna, nei Monti Aurunci, è un paesaggio che potremmo dire collinare, appunto. Un assetto anche di risorse che ha attivato pratiche di gestione differenti. Sì. Eppure queste aree di paesaggio sono collegate. Perché? Perché noi potremmo dire, pratiche di gestione, ora mi rendo conto che il tempo è poco, però questi triangoli che vedete sono ville. Il numero di ville in questa zona è considerevole, sono affiancati a toponimi prediali che tradiscono la presenza nella zona costiera di Monti Aurunci di diverse proprietà. E ora perché sto parlando di ville? Perché in realtà credo che sia importante capire come questi il santuario sia un fulcro di sistemi economici territoriali che sono avvicendati nell'antichità in questa zona a cavallo da montagne diverse. E queste ville praticavano forme di economie integrate, dove l'agricoltura specializzata era affiancata a pratiche economiche. Catone stesso ci dice che una delle pratiche fondamentali, se vogliamo far davvero i soldi con la nostra villa, è cercare di produrre quanto più pascolo possibile intorno a noi per affittarlo durante l'inverno a quei transumanti che scendono dalle montagne e cercano il pascolo invernale. Ora, possiamo quindi immaginare il santuario posto in un punto di attraversamento importante rispetto ai rotti di transumanza a corto raggio che si muovevano in questa zona. Un percorso che sia rispetto agli assi di transumanza a lungo raggio sia a quelli a corto raggio. Il percorso probabile di questi movimenti doveva essere attraversare appunto i Monti Aurunci. Da un lato il santuario guarda il percorso della via Appia verso Formia. Questo che vedete in blu è praticamente quello che vede il santuario. Se noi ci mettiamo sulla terrazza del muro in opera poligonale del santuario di San Cristoforo vediamo queste zone in blu. Vediamo Ischia, vediamo Gaeta e vediamo la via Appia verso Formia ma vediamo anche la via della SR82 della Valle dell'Iri fino al passo di San Nicola, vediamo il santuario della Madonna della Civita. Ma di fronte a noi, a est, si vede un percorso che scende dai Monti Aurunci, dalla forcella di Campello Vecchio e da Monte Castellone toccando una sorgente che è la sorgente di Tozze scende davanti al santuario. Che questo percorso fosse antico è plausibile. Si tratta comunque di sistemi diversi dove è probabile una preesistenza ad esempio anche nel sito di Monte Castellone a Campello Vecchio, stesso Castello di Campello è possibile che ci siano preesistenze antecedenti all'epoca medievale, sono siti che appaiono distanti ma sono in realtà probabilmente tutti collegati. E studiare il santuario di San Cristoforo in un'ottica di paesaggio, di territorio, può permetterci di accedere a una mole nuova di informazioni cruciali riguardo il nuovo assetto romanizzato della parte costiera del Lazio Medionale successiva alla fase di abbandono ad esempio della fondi pre-romana. È una fase diversa. Comunque sia, sono percorsi che necessitano tanto lavoro. Ora lascio la parola a Marco che vi parlerà delle strutture del santuario nello specifico e dei lavori che sono stati fatti nel corso della nostra campagna di documentazione di ottobre. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto vorrei ringraziare il professor Massimiliano Di Fazio, Elena e soprattutto Edoardo e Federico per la fiducia e gli insegnamenti. L'area di indagine a San Cristoforo è stata circoscritta all'interno di un perimetro di circa 165 metri che va a delimitare una superficie di quasi due chilometri quadrati. All'interno dell'area si conservano una serie di evidenze monumentali fra cui un grande muro di terrazzamento in opera poligonale, due cisterne voltate e adibite alla captazione dell'acqua, alcune strutture in opera reticolata, una crepidine e una grande scalinata, nonché una serie di strutture dalla forma circolare distribuite su buona parte del pianoro. Proprio questo importante aspetto ha incentivato in questa prima campagna di rilievo e documentazione lo studio degli elevati presenti a San Cristoforo, con l'obiettivo di poter allargare in un prossimo futuro l'orizzonte di ricerca dal singolo corpo di fabbrica strutturale al contesto territoriale, incrociando i dati provenienti da più metodologie di indagine. Le potenzialità conoscitive offerte dagli edifici antichi per le ricostruzioni storico-economiche e sociali soprattutto sono uno dei punti salienti del dibattito archeologico. Oggi l'archeologia mira soprattutto allo studio della cultura materiale e dei processi produttivi. Proprio questo approccio lascia intendere l'architettura storica non più come una branca della storia dell'arte, ma pone l'accento su tecniche costruttive, su maestranze impegnate a servizio di determinate committenze, sull'organizzazione del cantiere e indirettamente e a un livello superiore di indagine sui costi che la sua realizzazione ha comportato. Tutti aspetti che appunto le università di Siena e Pavia tenteranno di portare avanti nel corso dell'indagine a San Cristoforo. Negli anni passati il santuario fu già oggetto di ricerca da parte della soprintendenza e dal gruppo archeologico locale. Il team di studiosi e volontari, in seguito alla scoperta delle evidenze presenti, si adoperò nella pulizia del promontorio, mettendo in luce la maggior parte delle strutture ancora oggi visibili. Furono inoltre eseguiti alcuni sondaggi stratigrafici, i quali consentirono di incrementare i dati di ricerca che trovarono tempestiva pubblicazione. È stato proprio quanto edito negli anni precedenti a rappresentare il punto di partenza delle ricerche delle università di Siena e Pavia. Da quanto emerso dalle indagini passate, infatti, si è voluto stabilire un approccio multidisciplinare, di tipo non distruttivo, che consentisse di incrementare la conoscenza sulle strutture murarie evidenti. Per fare questo, sul campo si è proceduto prima di tutto a una ripulittura generale e superficiale del piano di campagna, con l'accortezza di non intaccare alcuna stratigrafia conservata e con l'unico scopo di mettere in luce limiti e rapporti delle strutture murarie parzialmente o completamente già visibili. L'azione di ripulittura dell'aria individuata ha quindi permesso una migliore identificazione delle singole evidenze. Attraverso l'approccio stratigrafico, da anni ormai applicato anche alla stratigrafia verticale degli elevati, sono state numerate e documentate 20 unità stratigrafiche. Queste, secondo l'approccio archeologico tradizionale, sono state registrate all'interno del quaderno generale di scavo e descritte per mezzo delle schede di unità stratigrafica, così come proposte dal Ministero della Cultura. Per ciascuna evidenza, stratigrafica terrena e stratigrafica muraria, si è proceduto alla documentazione fotografica con riferimenti metrici e geografici. Per ogni singola unità stratigrafica poi si è proceduto al rilievo tramite stazione totale. Per mezzo di punti di controllo rilevati con teste GPS e pertanto in coordinate geografiche assolute, sono stati abbattuti i punti significativi rappresentanti l'ingombro e le quote altitudinali delle strutture murarie e delle unità stratigrafiche, in modo tale da ottenere per ciascuna evidenza un prodotto geograficamente e metricamente corretto. I punti, in coordinate assolute, sono stati poi la base per la documentazione e archiviazione dei dati all'interno del database QGIS e per l'elaborazione grafica di piante e prospetti all'interno di AutoCAD. Il rilievo con stazione totale è stato incrementato con il rilievo fotogrammetrico in due dimensioni e tre dimensioni per mezzo di drone e macchina fotografica. Tramite voli programmati e manuali, nonché tramite prese fotografiche da terra, si è potuto scattare una serie di fotografie che, rielaborate all'interno del software Metashape e collegate alle coordinate assolute, hanno dato come prodotto un modello in due o tre dimensioni di quanto rilevato, consentendo l'estrapolazione di ortofoto mosaici geograficamente e metricamente corretti, fondamentali per il successivo studio e inoltre per una buona resa grafica. Tutti i dati raccolti nelle due settimane di ricerca sul campo sono stati poi rielaborati nei laboratori di archeologia dei paesaggi dell'Università di Siena e di archeologia dell'Italia preromana dell'Università di Pavia, consentendo una prima interpretazione di quanto immerso dalle indagini. In un prossimo futuro, i dati raccolti per le strutture murarie e certamente collegati ai dati di contesto e di scavo stratigrafico saranno poi inseriti all'interno del database ACOR, ovvero l'Atlante delle tecniche della costruzione romana, in modo tale da poter collegare e confrontare il santuario romano di Ittri all'interno del mondo romano mediterraneo. Per tempistiche, motivi logistici e soprattutto per motivi di sicurezza, non è stato possibile documentare direttamente tutte le strutture murarie del santuario conservate. Effettivamente le 20 unità stratigrafiche registrate nel corso della campagna del 2022 non rappresentano il totale di quanto già attualmente visibile sul promontorio. In ogni caso, i dati raccolti permettono certamente di elaborare dei primi risultati e offrire nuove prospettive di ricerca. L'area del santuario, il quale va detto nella sua concretezza materiale non è stato ancora portato alla luce, sembra essere delimitata lungo i suoi limiti meridionale e orientale da due grandi e imponenti muri. È stata documentata la struttura muraria localizzata presso il limite orientale, realizzata in opera poligonale. La muratura è costituita da 160 blocchi di calcare grigio locale dalla forma irregolare. Questi grandi blocchi sono disposti per filari ondulati sul loro lato maggiore. La diversità dei blocchi, sia per forma che per dimensioni, ha implicato che le maestranze impegnate nella costruzione fossero accorte nella sistemazione della muratura, di fatto servendosi di piccole pietre, appunto alle zeppe, sempre in calcare grigio locale, inserite all'interno degli spazi lasciati vuoti dall'accostamento dei grandi blocchi. Questo aspetto implica che con ogni probabilità il blocco arrivasse dalla cava, dal punto di estrazione, al cantiere di San Cristoforo più o meno in quello che è l'aspetto attualmente visibile e rifinito a piedopera venisse sistemato in quella precisa posizione attraverso l'uso delle zeppe. Questa specifica progettualità e modo di procedere delle maestranze si può notare rapportando l'andamento dei filari con il suo limite superiore. Il muro infatti risulta essere appoggiato direttamente sul banco di roccia naturale. Seguendo pertanto l'orografia del terreno, non perfettamente regolare, le maestranze hanno disposto blocchi e zeppe seguendo tale andamento, ma con l'accortezza di portare a una stessa quota il coronamento superiore del grande muro tramite l'incastro dei blocchi e delle zeppe. Inoltre più del 30% dei blocchi presenta tracce di lavorazione riferibili al nastrino, accorgimento tecnico ed estetico che va a risaltare ancora di più la lavorazione a bugnato rustico. Al limite nord-occidentale del muro in poligonale si appoggia, costituendo con esso un angolo di circa 90 gradi verso l'interno del promontorio, un'altra piccola muratura. La precisa localizzazione della struttura porta a interpretare il muro come funzionale alla delimitazione di uno spazio. Effettivamente più a nord del muro è ancora oggi possibile vedere a una quota inferiore alcuni grandi blocchi disposti a formare una scala, segnalati in pianta appunto dal rettangolo blu, rimaneggiata sicuramente in età moderna. In questo senso il muro sarebbe uno dei due muri limite dell'apertura che con ogni probabilità dava accesso al santuario tramite una scalinata. Il piccolo muro è realizzato con piccoli blocchetti di forma tronco piramidale e con faccia vista quadrangolare e rettangolare, legati tra loro da malta di calce di colore giallastro. La muratura termina con blocchi più grandi e di forma parallelepipeda di calcare grigio, disposti per gli atoni e ortostati. Proprio questi blocchi parallelepipedi possono essere interpretati come uno dei due stipiti dell'apertura e pertanto il muro come un piccolo tramezzo che delimitava l'accesso all'area sacra, collegando l'esterno con la parte centrale e superiore del promontorio. I filari del muro sembrano seguire un andamento a 45 gradi. Seppur molto irregolare del resto, questa caratteristica dei paramenti sembra essere determinata dall'impiego di blocchetti poco regolari. Il grafico infatti riporta i valori dimensionali dei blocchetti utilizzati nella muratura. La curva trimodale attesta una certa irregolarità nelle misure campionate e lascia ipotizzare alcune riflessioni sul cantiere. Si potrebbe pensare a più gruppi di maestranze che, con diversi modi di costruire, lavorano insieme alla realizzazione della muratura. Tuttavia, considerando le dimensioni della stessa muratura, si potrebbe meglio ipotizzare che uno stesso gruppo di maestranze abbia impiegato il materiale a disposizione non perfettamente regolare e forse direttamente reperibile in locco e quindi di reimpiego. Al centro del pianoro è stata messa completamente in luce una scalinata monumentale con andamento ascendente da nord-est verso sud-ovest. Attualmente la scalinata si conserva per sei gradoni, ciascuno dei quali realizzato con blocchi quadrangolari e parallelepipedi disposti l'uno accanto all'altro e direttamente appoggiati sul banco naturale di roccia. I blocchi di ciascun gradone superiore poggiano inoltre su parte dei blocchi del gradone a esso inferiore, secondo un sistema di incastri ben studiato e che andasse a dare stabilità ai vari filari e alla scalinata. La pedatta media di sei gradoni conservati corrisponde a circa 40 centimetri, mentre l'altezza di ogni singolo gradone varia tra i 17 e i 24, raccordando una pendenza appunto fra il piano di Calpestio e l'ultimo gradone. I valori rientrano in quello che il canone è espresso da Vitruvio per quanto riguarda i santuari a terrazze. Tuttavia il valore della pedatta si discosta leggermente da quello che è stato rinvenuto a San Cristoforo, pertanto possiamo ipotizzare a uno slittamento della struttura per un cedimento del terreno oppure anche a una risistemazione moderna. Effettivamente la risistemazione è stata attuata anche in quella che è stata interpretata come crepidine o canaletta, infatti è stata rinvenuta questa struttura dalla forma quadrangolare che presenta una lavorazione particolare perché si tratta sempre di blocchi quadrangolari bellisciati in superficie, ma tuttavia è stato rinvenuto la parte di un'iscrizione all'interno di questa crepidine. Tra l'altro questa struttura appoggia direttamente sul piano di campagna attuale, pertanto sia il rapporto stratigrafico sia il fatto che l'iscrizione stoni rispetto alla muratura in generale, ha fatto ipotizzare a una risistemazione moderna. Effettivamente la canaletta della crepidine potrebbe essere rispostata leggermente in direzione occidentale, ovvero nei punti in cui sono stati rinvenuti dei tagli nel banco roccioso, infatti il banco sembra essere lavorato a piccone e funzionale al trasporto dell'acqua fra la canaletta individuata al di sotto della scalinata e appunto la canaletta così spostata. Inoltre il collegamento sembra appunto attuarsi anche grazie alla realizzazione delle cisterne che tuttavia per motivi di sicurezza non sono state documentate nel dettaglio. Infine vado a conclusione, è stato molto interessante analizzare la tecnica edilizia che si trova collocata al di sopra del muro in opera poligonale. Infatti si tratta di un muro realizzato con pietre di medie e piccole dimensioni disposte a secco e senza filari. In alcuni casi è stato possibile intercettare del legante della malta di calce, tuttavia il legante non è sempre presente fra le pietre e tra l'altro è appunto presente nella sua faccia vista. Ciò ha fatto pensare all'utilizzo di altre strutture che vennero smontate e appunto riempiegate per la realizzazione di questa muratura, da scriversi probabilmente all'età medievale quando il santuario di San Cristoforo ha una nuova vita. Vi ringrazio. Allora eccoci qua, arriviamo adesso alla conclusione di questo evento e lascio la parola al sorintendente, dottor Francesco Di Mario. Grazie. Sarò brevissimo. È sempre piacevole ed utile assistere a manifestazioni, a convegni di questo tipo, inclusi a modo di essere aggiornati sullo stato degli studi. È anche piacevole vedere tanti giovani che si danno da fare, che si impegnano con passione. Vorrei ricollegarmi al discorso del sindaco, al percorso storico, che è assolutamente fondamentale. Tutto questo ha significato, sì come conoscenza, come ricostruzione storica e così via, ma ha anche un significato profondo per il nostro momento attuale, per questo momento di arrivo che ha una profondità cronologica notevole e che noi dobbiamo ben conoscere per poterla valorizzare, per poterla salvaguardare e soprattutto per trovare il giusto connubio tra ciò che il passato ci ha tramandato e le moderne esigenze di sviluppo. Cosa su cui la sovrintendenza si confronta e fatica quotidianamente salvaguardare l'antico evitando, o è possibile, di non vessare troppo il moderno. Da tutti questi discorsi, come da quelli che già conosciamo, che provengono dal passato, in realtà emerge una fondi importante, una fondi importante per il passato, una fondi importante per il presente. Sentendo tutti i discorsi già fatti e basandomi anche sulla mia esperienza sul territorio, in realtà mi sono venuto alcune idee, alcune cose vorrei ora comunicarvele. Si è parlato della Viappia, si è parlato di questo magnifico progetto dell'UNESCO per la valorizzazione della Viappia e vorrei qui comunicare una novità importante. La sovrintendenza ha richiesto e ottenuto un finanziamento poderoso per la valorizzazione, e parleremo poi di valorizzazione, di uno dei tratti secondo me più belli della Viappia, che è quello che unisce l'attuale città di fondi con conitri. Passando attraverso il cosiddetto fortino di Sant'Andrea, un tratto di Appia conservatissimo, con delle caratteristiche tra l'altro ambientali eccezionali. Cioè si tratta di una porzione del territorio in cui è possibile riutilizzare quel termine inglese nato comunque nella cultura anglosassone di paesaggio culturale. Cominceremo presto questo lavoro, in realtà abbiamo qui presente il probabile progettista. Cercheremo di andare avanti con la salvaguardia delle strutture antiche, ma soprattutto con la creazione di un percorso, di un percorso didattico, andando a risistemare e godendo anche dell'apporto di archeologi che provengono da questo territorio, il professor Di Fazio. E questa è una prima notizia importante. Stiamo partendo con le progettazioni. Entro direi due mesi, tre mesi al massimo, avrò il progetto in mano, anche un po' meno probabilmente. Dopodiché partiremo con la gara e l'inizio dei lavori. Quindi in autunno dovremo avere gli operai già all'opera. Tutto questo coinvolgerà anche il Parco degli Aurunci, il Presidente credo che non ci sia più. Lo coinvolgeremo in tutto questo discorso. Un altro elemento importante è quello legato alla famiglia imperiale. Ho sentito parlare di Livia, di Augusto, che collega in qualche maniera fondi con un'altra area vicina, questa volta situata al nord, con Terracina. A Terracina abbiamo rinvenuto, ho rinvenuto io personalmente, delle teste in marmo, degli elementi in marmo che richiamano assolutamente la stessa famiglia imperiale. Sarebbe quindi estremamente utile e doveroso riunire in questo percorso di ricostruzione, di valorizzazione storica, questi ritrovamenti importanti, come dire, facendo confluire in questa storia, caro direttore, anche le basi per Stato che provengono dal teatro romano, con queste scritte eccezionali che richiamano i due figli adottivi di Augusto. Abbiamo tanto da lavorare, tanto da portare avanti e sarebbe anche bello riuscire a rendere il tutto più facilmente comprensibile a tutti quanti. Oggi abbiamo sentito diversi interventi e mi rendo conto ogni volta di quanto sia difficile divulgare anche a chi non è del mestiere, cioè rendere il tutto, come dire, mantenendo la scientificità, ma renderlo anche il più possibile piacevole da ascoltare, cioè fare cultura in realtà. Ed è quello che dovremmo cercare di fare. Vi ringrazio della presenza, vi saluto. Grazie dottore. Ringrazio nuovamente tutti per la partecipazione di quest'oggi e vi auguro buon pranzo. Grazie. 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 Grazie.